buongiorno 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 a tutti state arrivando un pochettino sabato 28 28 28 un attimo che vediamo se ok non dovrebbero esserci più problemi adesso vediamo che arrivano i primi della diretta siamo già ok datemi segnale se mi state vedendo se mi vedete bene se lo schermo è a posto anzi controllo anch'io qua vediamo se vediamo se abbiamo tutto quanto a posto imprenditori d'eccellenza eccolo qua ok rosalba ciao rosalba si vede bene dammi una cosa ah sì 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 ok sì stiamo stiamo entrando e che belli state arrivando poi tutti belli azili 11 30 puntuali puntuali bene cominciamo con finché finché arrivano gli altri ciao alessandro alessandro il social media manager che ci assisterà su tutte quante quelle che sono le cose che andrò a dire in diretta ricordiamo una cosa che questo queste dirette live sono per un gruppo chiuso il gruppo chiuso è imprenditori d'eccellenza quindi non possono vederla tutti ciao walter non possono vederla tutti quanti quindi se vuoi vedere queste dirette o invitare qualcuno è importante che tu gli dica di iscriversi al gruppo di imprenditori d'eccellenza ed è importante che tu condividi sulla tua pagina facebook queste queste dirette perché diamo la possibilità anche agli altri di capire quanto potente è questo strumento di diretta quando ci sono informazioni di valore roberto ciao state arrivando il tema di oggi il tema di oggi e sono i principali strumenti per governare la propria azienda prima primo distinguo da fare molto importante questi concetti che noi diamo valgono un po per tutti magari per le aziende più piccole qualche strumento non è ancora idoneo ma lo sarà nel tempo negli anni valter panzeri ciao un esperto d'impresa è un grande amico ciao ciao alte quindi molto molto importante che vi prendiate penna e carta e il quadernino ok che andiamo a vedere quali sono questi strumenti qualcuni li conoscerete alcuni non li conoscete sono in realtà più di 20 sono circa una trentina di cui parlò in questa diretta live ok quindi ciao luca bene arrivato quindi partiamo con questi strumenti parleremo dello strumento e della e come analizzare innanzitutto lo strumento dell'amministratore unico quando l'azienda è piccola si utilizza l'amministratore unico l'amministratore unico a delle mansioni a delle responsabilità e è giusto che sia investito di questo spesso e volentieri si butta ciao massimiliano si butta nell'amministratore unico perché un familiare perché un amico perché comunque eccetera 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 ma bisogna accertarsi sempre che l'amministratore unico abbia consapevolezza del proprio ruolo e abbia consapevolezza delle proprie responsabilità ripeto abbia consapevolezza del proprio ruolo e abbia consapevolezza delle proprie responsabilità il secondo strumento è il consiglio di amministrazione così amministrazione che non va affatto sulla carta perché la spesso e volentieri le aziende la maggior parte delle aziende fa il consiglio di amministrazione sulla carta solo sulla carta e poi non vengono fatte e poi le riunioni non vengono affrontate la frequenza della delle riunioni del consiglio di amministrazione a mio giudizio dovrebbe essere mensile se non mensile almeno almeno trimestrale ok perché perché il consiglio di amministrazione è il governo della vostra impresa quindi ripeto anche se è un'impresa piccola il consiglio di amministrazione può essere composto da due persone da tre persone queste persone devono assolutamente dialogare tra di loro il cda consiglio di amministrazione è credo il maggiore strumento per governare per governare la vostra impresa ci sono in internet c'è sicuramente l'ira di dio di informazioni sul consiglio di amministrazione ma non deve essere come nella maggior parte dei casi solo sulla carta quindi evitate di fare questo perché lo fanno già ciao lorenzo raniolo benvenuto il consiglio di amministrazione è uno strumento fondamentale amministratore unico e consiglio di amministrazione sono due cose il lo strumento numero 3 è praticamente il collegio sindacale collegio sindacale tante volte viene visto come un oratore di coglioni è necessario oltre certe soglie attivo patrimoniale massa massa patrimoniale eccetera e invece deve essere utilizzato come uno strumento di dialogo dovete dialogare con il consiglio di amministrazione dove il consiglio di collegio sindacale dovete far capire ai sindaci quali sono le vostre intenzioni dovete coinvolgere i sindaci nella gestione della vostra impresa perché è fondamentale fondamentale quindi amministratore unico consiglio di amministrazione collegio sindacale questi sono i tre strumenti base per governare un'impresa ok nel momento in cui è piccola amministratore unico quando cresce consiglio di amministrazione quando cresce ancora collegio sindacale queste sono le tre queste le tre cose importante la quarta cosa è veramente il livello dei soci cioè l'assemblea dei soci di solito l'assemblea dei soci si riunisce solo ed esclusivamente una volta all'anno per l'approvazione del ciao claudio claudio tesoriero bass box bravissimo il l'assemblea dei soci di solito si riunisce una volta all'anno per l'approvazione del bilancio sbagliato nulla di più sbagliato l'assemblea dei soci dovrebbe dovrebbe assolutamente riunirsi di più un paio di volte all'anno tre volte all'anno per giudicare l'operato del consiglio di amministrazione l'assemblea dei soci governa il consiglio di amministrazione ok quindi giudica il consiglio di amministrazione nomina gli amministratori ok quindi l'assemblea dei soci esprime la proprietà non fate confusione tra il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci sono due strumenti completamente diversi la consiglio di amministrazione è uno strumento di governo operativo dell'azienda l'assemblea dei soci è uno strumento di carattere strategico ok l'assemblea dei soci deve essere proattiva quindi gli amministratori di solito espongono le loro strategie nell'assemblea dei soci e vengono vengono discusse vengono condivise insomma una persona può essere sia nel consiglio di amministrazione che nell'assemblea dei soci il mio consiglio personale è quello che la proprietà stia nell'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione sia fatto da manager ma anche lì dipende anche dalle dimensioni poi c'è un'altra figura che si chiama revisore unico il revisore unico è in alternativa alla certificazione di bilancio è una sorta di controllore del collegio sindacale ma in ogni caso una persona esterna che dialoga con l'impresa il revisore unico anche in questo caso va coinvolto va coinvolto nel senso che va spiegata di solito il rapporto fra chi amministra l'azienda e il collegio e il revisore unico è praticamente nullo e invece marco pogianella benvenuto e invece il collegio sindacale e il revisore unico vanno assolutamente assolutamente coinvolti ok quindi amministratore unico scrivete per cortesia consiglio di amministrazione collegio sindacale assemblea dei soci revisore unico ok sono cinque strumenti importanti scrivete perché anche se non avete un'impresa che oggi ha necessità di questi strumenti e cultura di impresa che poi vi portate avanti e potete io spero che vi che vi serva nella vita perché è importante che riusciate ad armonizzare il lavoro di questi strumenti per governare la vostra impresa poi abbiamo al sesto posto abbiamo la certificazione di bilancio certificazione di bilancio che viene vista solamente e viene interpretata solamente per i grandi gruppi le grandi aziende non è vero non è assolutamente vero perché la certificazione di bilancio oggi ci aiuta a mostrarci con una certificazione appunto nei confronti dell'azienda una certificazione di bilancio che è molto importante perché il bilancio e il rating sono assolutamente importanti ragazzi scrivete e ditemi se questi strumenti d'impresa vi piacciono se vi trovate concordi con me se li ritenete utili siate interattivi amo l'interattività non voglio parlare ed essere ascoltato e basta ok e poi condividete col ditino sulla sulla vostra pagina facebook ok quindi la certificazione bilancio io ho ottimi rapporti col mondo del oit e il mondo del oit è un mondo veramente una delle big four adesso ma devo dire che è molto molto importante questo discorso qua ok quindi direi che questi sono quelle che sono le prime le prime cose molto molto importanti adesso andiamo a parlare di una figura che potesse uno strumento di governo d'impresa cioè l'inserimento di un esterno nel cda cioè inserimento di una persona delicato lo fanno in pochi ma ma chi lo fa chi lo fa fa un salto di qualità perché per una cosa molto semplice l'esterno in consiglio di amministrazione intanto non ha il retaggio mentale vostro ricordatevi sempre che voi siete imbevuti della storia delle abitudini delle situazioni della vostra impresa io vivo nella mia impresa dal 1983 quindi sono 35 anni evidentemente sono imbevuto dell'impresa arwell d'italia ok quindi ho necessità di avere un esterno che mi dica guarda grazie davide grazie anche gli altri mi diano feedback ho necessità di un esterno che mi dica guarda questo progetto qua interessante secondo me non è interessante secondo me è utile o non è utile quindi il la persona l'inserimento dell'esterno è utile come farlo beh deve essere comunque una persona di fiducia deve essere comunque una persona che in qualche modo conoscete o conoscete per interposta persona nella nostra community osa di cui parleremo abbiamo una segnaliamo una serie di professionisti certificati ok professionista o imprenditore massimiliano 50 50 nel senso che anche l'imprenditore io faccio il il membro del consiglio di amministrazione di parecchie aziende no e il mio rapporto è questo prendo un gettone molto basso ok quindi un gettone molto contenuto che per l'azienda non è un investimento ma porta un contributo molto interessante tre volte all'anno ok quattro volte all'anno massimo il l'esterno in cda è un esperto molto molto importante può essere un professionista dipende la vita dell'azienda se l'azienda è in un momento di vita normale se l'azienda è in un momento di vita straordinario se l'azienda fa cose straordinarie ok vedo le cose con imparzialità portando know how comunque veramente utile questa diretta certo Enrico che è utile io cerco di dare contenuti assolutamente quindi l'esterno che inserite in cda è un consiglio che vi do io veramente poi otto otto advisory advisory io da un bel po di tempo ho un advisory si chiama SOGEC ok e nelle operazioni diciamo straordinarie l'advisory è la terza parte che contatta gli enti finanziari è molto interessante e mi avvalgo anche di credit pass e di altre advisory diciamo è molto interessante perché aiuta a intermediare il rapporto tra voi e il mondo esterno possono essere i shareholder se avete un'azienda quotata o altro o possono essere le banche o possono essere gli altri enti finanziari la persona esterna potrebbe non essere esperta e informata del settore del mercato e del mercato e quindi dare consigli no meglio meglio se non è del settore e non è del mercato meglio allora noi siamo invasati di questo discorso vi racconto un aneddoto un aneddoto una cosa successa in america non mi ricordo dove ci cago forse c'è questa questa gara della di chi mangia più hamburger in un certo numero di minuti arriva da tanti anni da 85 anni nessuno battiva questo record perché era sempre la solita persona arriva un ragazzino giapponese e le regole sono deve mangiare un hamburger con booster dentro pane e poi bere solo acqua arriva un ragazzino giapponese cosa fa questo ragazzino giapponese qua semplicemente semplicemente mangia il doppio degli hamburger che avevano visto il titolo il record registra per 85 anni sapete come ha fatto ha fatto una cosa molto semplice ha separato il pane dai booster ha prima mandato giù i booster che scivolano dentro poi ha imbevuto nell'acqua il pane e ha bevuto la poltiglia e quindi ha potuto mangiare esattamente il doppio senza violare le regole quindi una persona che è esterna con sua amministrazione meglio se non è del settore assolutamente meglio se non è del settore altro strumento importante dopo l'advisory state scrivendo spero ok vedo che state partecipando moltissimo scrivete se vi piace scrivete se avete altri strumenti scrivete se avete esperienze scrivete se avete tutte queste cose qua direttivo aziendale il direttivo aziendale io l'ho costituito da molti anni fa cos'è? è uno strumento trasversale a tutta quanta l'azienda dove partecipano ciao giuseppe ciao giuseppe il consiglio direttivo è un insieme di persone che rappresentano un po' tutte quante le aree dell'azienda e il direttivo aziendale è uno strumento utilissimo molto utile il direttivo aziendale va nominato il direttivo direttorio direttivo chiamiamolo come vogliamo è veramente un strumento in più perché c'è una certa partecipazione io da molto tempo da ormai da un anno e mezzo ho cominciato a fare un progetto digitale per il gruppo molto importante e il direttivo è stato composto ad hoc a questo punto in maniera trasversale per seguire il progetto digitale quindi il direttivo è un altro strumento per governare l'impresa molto importante e siamo al numero 9 10 psicologo aziendale ecco qui qualcuno comincerà a pensare che l'azienda non è impazzita non è vero il psicologo aziendale serve assolutamente una volta l'anno due volte anno che assista nei consigli di amministrazione un psicologo naturalmente di carattere aziendale corporate ok ed è molto 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 utile molto utile perché può risolvere molte questioni molti conflitti che nascono all'interno dell'impresa all'estero soprattutto in austria con un fornitore nostro molto importante ha fatto un bel lavoro perché ha analizzato tutti quanti i componenti del consiglio questo psicologo aziendale e ha estratto quelli che erano potenziali conflitti Alessio Perlina per me è tutta cultura per il momento sicuramente mi verranno utili per futuro te lo auguro lo psicologo aziendale è molto 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 importante numero 11 tecnico in cda che non è solamente l'esterno in cda tecnico in cda faccio un esempio pratico se io ho un'azienda che tratta energia alternativa probabilmente un tecnico riconosciuto dal mercato all'interno del consiglio di amministrazione è molto molto interessante per me ok quindi il tecnico in cda è molto molto determinante come come strumento e siamo arrivati al numero 12 un strumento per governare l'impresa è il commercialista commercialista con il quale si deve avere un certo rapporto io splitterei il rapporto del commercialista in un binario a due il commercialista rutinario e il commercialista invece massimiliano non ho capito esterno a cosa è riferito commercialista di ordinario e commercialista straordinario perché perché sapete che l'ho detto veramente molte volte la persona che fa operazioni straordinarie non può essere la persona che fa i bilanci e che comunque realizza le due persone insieme possono collaborare in questo senso e ci sono persone che sono adeguate solo su questo discorso qua quindi commercialista è una cosa molto 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 utile e molto importante perché riesce a fare una cosa poi altro strumento molto importante uditori in cda quando trattate degli argomenti che siano specifici o punti specifici all'ordine del giorno noi abbiamo consigliamo che venga invitato qualcuno dell'azienda come uditore non come partecipante la seduta del consiglio ma come uditore questo perché prima perché lo valorizza e gli da un'importanza notevole secondo perché effettivamente può dare il suo contributo ancora una volta facciamo un esempio momento in cui abbiamo fatto deciso il progetto digitale deciso il progetto digitale evidentemente il responsabile dei sistemi informativi è stato direttamente contattato dal CEO dell'azienda ed è stato direttamente coinvolto nel discorso ok ok quindi il discorso della della dell'uditore è molto molto importante altra cosa molto importante per il cd a molto importante la distribuzione precisa degli incarichi ai membri del cd a distribuzione ben precisa degli incarichi ovvero le deleghe le deleghe tante volte sono delle cose che si lasciano al commercialista le deleghe cosa può fare cosa non può fare un determinato membro del cd a ed è sbagliatissimo è molto sbagliato perché se lasciate al commercialista che dica a lui le deleghe che deve fare una persona un membro del cd a lui prende il copia incolla e praticamente vi dà fotocopia in quello che è stato fatto per gli altri dieci aziende precedenti che lui trattava invece dovete essere voi direttamente che ogni volta che voi andate a fare un consiglio avete la persona e avete il mansionario della persona e gli incarichi devono rendere conto nel modo più assoluto perché chi è nel consiglio di amministrazione deve rendere conto degli incarichi che ha quindi distribuire incarichi e membri del cd il numero 16 è la differenza tra il presidente il CEO io da 2004 in questo caso ho ceduto tutte le cariche operative al mio socio Andrea Giometto e devo dire che il rapporto tra me e lui è questo condividiamo l'operatività io mi occupo molto di più della parte strategica e delle varie problematiche o difficoltà che ci sono attorno al perimetro aziendale e lui garantisce l'operatività standard dell'azienda lui gestisce tutta una parte del gruppo eccetera il presidente il rapporto tra presidente e CEO deve essere differenziato è molto importante questo discorso perché tante volte non si pensa a questo discorso invece questo discorso è molto 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 importante quindi se avete questo ruolo qua diviso cercate di dare la vostra la vostra differenziazione fra di loro rapporti con gli investitori esterni devono essere redati dei documenti se avete degli investitori esterni so che ci sono molti che ci stanno guardando che hanno start up e che hanno aziende in fase di lancio dovete diventare bravi nel preparare la vostra idea nel presentare non sto parlando di semplice business plan ma sto parlando di documento che trasferisce a terzi esattamente quello che voi volete fare dovete andare in cerca dei migliori esperti di powerpoint dovete andare in cerca dei migliori esperti di business plan dovete andare in cerca dei migliori esperti di storytelling cioè tutte queste cose qua servono perché voi dovete avere un rapporto con gli investitori esterni più carta più carta anche a livello di centimetri più carta voi producete e più il vostro documento sarà veritiero Valerio Malvezzi che è stato imprenditore 360 ha praticamente spiegato e ha portato un faldone che era un faldone così chi di voi l'ha visto penso che se ne sarà reso conto ha portato un faldone incredibile perché l'informazione degli esterni deve essere molto molto importante ok per le aziende più grandi più strutturate consiglio anche un responsabile un altro strumento molto importante scrivetelo responsabile delle relazioni esterne potrebbe essere anche una funzione interessante ad esempio Giuseppe tu che stai guardando il responsabile delle relazioni esterne per la tua azienda Giuseppe è presidente dell'Aristo più Lombardia praticamente il responsabile potrebbe essere diciamo un tot ok quindi ah sicuramente Totò Modica dice book finanziario beh book finanziario nel rapporto con gli investitori esterni è molto importante il responsabile delle pubbliche interazioni delle pubbliche relazioni esterne è veramente una figura importante dialogo con l'ufficio stampa dialogo con gli altri insomma vi dà l'idea potrete essere anche voi una parte del vostro lavoro ok non pensate sempre a dimensioni anche se avete un'azienda che fa un milione di euro ha necessità di strutturarsi questo prima o poi avverrà voglio dire ok quindi direi che effettivamente questo strumento qua è molto importante e diciannovesimo strumento è di governare l'impresa sono i colloqui di manutenzione e cosa sono i CDM CDM scrivete colloqui di manutenzione sono dei momenti in cui voi amministratore manager imprenditore vi prendete del tempo ok vediamo buongiorno Favaron dice la figura del mental coach in azienda è paragonabile a quella dello psicologo sì certo 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 Mauro la figura del mental coach io dopo lo dico è mentore di impresa diciamo questo lo definisco però è vero quello che dici tu assolutamente importante i colloqui di manutenzione dicevo strumento strategicissimo strumento strategicissimo prendete frequenza decidete voi una volta al mese una volta a settimana una volta al mese una volta ogni due mesi una volta ogni tre mesi però con le persone che contano nella vostra attività nella vostra impresa stabilite dei colloqui durata 30 minuti o 60 minuti 30 minuti o 60 minuti preparazione ciascuno dei due prepara i temi l'ordine del giorno dell'incontro questi colloqui di manutenzione che sono esattamente come il tagliando della vostra macchina perché questo lo sono voglio dire servono in maniera incredibile perché prevengono tutta una serie di cose le prevengono le evitano tutta una serie di discorsi che poi esplodono possono essere prevenuti con i cdm e io devo sempre ringraziare bruno bettenzani vent'anni fa mi ha insegnato a fare i colloqui di manutenzione il punto 15 è la distribuzione degli incarichi al cda e il punto 18 è il responsabile delle relazioni esterne quindi i colloqui di manutenzione sono per me uno degli strumenti principe in assoluto state prendendo nota state condividendo su facebook tutto quanto ecco notate bene che tutti questi argomenti in osa la comunità degli imprenditori italiani che oggi sta spopolando dappertutto li trattiamo in maniera molto molto frequente sì i colloqui di manutenzione o una volta a settimana o una volta al mese o una volta ogni due mesi o una volta ogni tre mesi o una volta ogni quattro mesi o una volta ogni semestre 30 minuti o 60 minuti lo mettete dentro nel todo east ok todo east todo east lo mettete dentro qua nel todo east e voi poi andate vedete il todo east eccolo qua guardatelo tac lo mettete dentro lì e poi vi viene fuori questo discorso qua giovanni solieri riunione settimanale con i collaboratori singolarmente o di gruppo detto allora sono due cose diverse gianni la riunione di gruppo assolutamente serve e quindi che poi io l'ho formata come spritz time o altre cose ok ma il discorso del colloquio di manutenzione è rigorosamente individuale e rigorosamente per quelli che contano della tua impresa quindi io non so quante tu ne abbia 1 2 3 o 4 sono assolutamente rigorosamente per quello ok todo east.com esatto alessandro questo voi mi mettete dentro sul todo east colloquio con mirko gasparotto una volta al mese e ve lo e ve lo anticipa colloquio con luca menegazza due volte al mese e ve lo una volta a settimana quello che volete voi ok e lo strumento 20 che avevo scritto partecipate a imprenditore 360 ma chi c'è stato ha voluto penso che abbia reso con si sia reso conto che abbiamo venduto una marea di registrazioni oltre a tutto insomma no siamo andati oltre ragazzi 500 persone 1100 persone in due giorni con voglio dire un 42 call to action 42 call to action cioè una serie infinita di cose che servono all'impresa andiamo avanti 21 governo di strumento di impresa controllo di gestione controllo di gestione dovete assolutamente avere qualcuno che vi installa il controllo di gestione su foglio excel semplicissimo se non ce l'avete ce l'abbiamo noi in osa ok abbiamo il consulente la persona giusta che vi può da 100 mila euro all'anno in su vi può assolutamente dare una cosa alessandro borghezang sta mettendovi grazie alessandro sei sempre molto prezioso sta mettendovi tutti quanti i link ok quindi è molto molto importante questo discorso 21esimo controllo di gestione strumento di governo di impresa straordinario stra ordinario 22 pianificazione strategica è la specialità del mio amico e socio fondatore di osa alessio brusemini quindi pianificazione strategica la dovete assolutamente fare nel modo più assoluto strumento per governare meglio delle vostre imprese numero 22 ok 23 ci sono imprese che non hanno ancora l'organigramma cos'è l'organigramma e la funzione di ciascun dipendente di ciascun collaboratore insomma c'è l'organigramma il framework non so cosa non so come spiegarvelo è quello che vi serve per gestire bene se non ce l'avete fatelo date su internet andate su google mettete tiratevi giù uno schemino e fate il vostro organigramma perché le persone amano essere inquadrate le persone che lavorano per voi amano che si sappia cosa volete da loro è molto importante questo numero 23 questo numero 24 se avete un'azienda familiare per governarla bene dovete scrivere la vostra costituzione familiare cos'è la costituzione familiare è né più né meno che una serie di regole che non sono lo statuto assolutamente ma che governano la relazione fra i soci familiari i soci familiari praticamente litigano per cazzate che possono essere l'auto aziendale che possono essere la carta di credito che può essere il dipendente che taglia l'erba a casa in carico all'azienda che può essere mille cose se voi prevenite questo con la cosiddetta costituzione familiare e anche qui in osa noi abbiamo assolutamente la possibilità di esservi utile ok la costituzione familiare è un documento strategicissimo poche ciance poche ciance quando è scritto è nero su bianco tutti l'hanno sottoscritto e a posto il numero 25 è la costituzione familiare societaria se non avete un'azienda dove avete familiari soci e avete altri soci la costituzione societaria è molto importante ok costituzione societaria vuol dire che non è lo statuto vuol dire che le regole sono molto 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 chiara abbinato a queste cose qua numero 26 i patti parasocietari queste tre cose qua questi tre strumenti qua ultimi che vi ho detto adesso la costituzione familiare la costituzione societaria e i patti parasocietari devono essere fatti da specialisti non possono essere fatti dal commercialista standard non possono essere fatti dai professionisti standard in osa abbiamo individuato queste persone che possono scrivervi questi documenti che vuol dire no legali no vertenze no tribunali no bruciori di stomaco no tante cose però devono essere scritte per tempo prima meglio pagare una parcella di x mila euro prima e non litigare che pagare x mila euro di parcelli di avvocati siete d'accordo o no per cortesia interagite scrivete se oggi la diretta vi è piaciuta vi sta piacendo se trovate spunti se li avete trovati utili e condividete sulla vostra pagina facebook per cortesia il mio è un servizio di condivisione è uno degli scopi della mia vita ma datemi in soddisfazione per cortesia cercate di valorizzare il lavoro e lo sforzo che faccio anch'io e visto che parlo di sforzo parlo anche di alca energy del mio amico alex viola che è il protocollo che mi rende così capace e prestante anche di sabato e anche di domenica ok allora quindi 27 27 guardate bene lo statuto societario guardate bene lo statuto societario il grande dimenticato da tutti lo statuto societario è il grande dimenticato da tutti si guarda quando si va a costituire la società e basta si delega il commercialista lo statuto societario ma nella più grande cazzata che voi potete fare dovete entrare voi nel merito dovete entrare voi del merito ok quindi lo statuto societario prendetelo in mano andate a marco pogianella ti seguo anche dalla florida marco numero uno marco un'azienda la sop di busto arsizia un'azienda splendida perché è veramente un imprenditore grazie marco non so che ora sia in florida adesso ok quindi lo statuto societario va revisionato tiratelo fuori dai call to action tiratelo fuori e vedete effettivamente se è ancora attuale perché potrebbe essere obsoleto o vetusto e dovete riprenderlo in mano anche qui in osa abbiamo la possibilità di darvi chi scrive praticamente su questo discorso qua poi 28 28 check up aziendale check up aziendale molti hanno paura dicono ma no da me va tutto bene perché devo fare un check up e devi fare proprio il check up perché le cose vanno bene e lo devi fare fare un altro non solo i 5.000 del check up che ti contano l'azienda ma magari scoprire che stai per avere dei problemi o che potresti avere dei problemi o che ci sono degli alert che voglio dire possono essere evidenziati e gestiti prima come emergenza ordinaria e non come emergenza straordinaria ok quindi 27 27 28 è molto importante il 29 vabbè trovatevi un mentore d'impresa ad eccezione come mirco gasparotto scherzo la realtà è che venite in osa e frequentatemi perché avere un mentore d'impresa è molto importante rosalpa grandi spunti per sistemare molti aspetti sì ne abbiamo parlato anche io e te sulla diretta skype della fine settimana scorsa quindi il mentore d'impresa è molto importante trovate una persona di cui vi fidate trovate una persona che comunque abbia avuto esperienza abbia fatto cose io ieri ho fatto il post sui consulenti qualcuno mi ha detto non generalizzare ma certo ma se sei un consulente che fa bene il suo lavoro non devi avere problemi nel modo più assoluto se sei un consulente che invece non fa bene il proprio lavoro devi avere problemi e in mente solo la fi questo deve avere problemi ok quindi assolutamente il il discorso del mentore d'impresa va scelto in in discorso ultimo strumento trentesimo 30 strumenti 30 30 30 strumenti vi ho dato oggi per governare l'impresa trentesimo esperto in diritto societario avvocato esperto in diritto societario trovatevelo con calma gestitevi la relazione anche se non vi serve perché prima o dopo l'esperto in diritto societario ne avrete estremo bisogno ok e quindi questi sono i 30 consigli che vi do molti di voi stanno scrivendo bianchi in privato e stanno chiedendomi osa notizie su osa osa è la comunità di imprenditori che è nata due anni fa oggi abbiamo quasi 150 aziende che ci fanno parte io e alessio brusemini abbiamo fondato questa cosa abbiamo una sede nel nord ovest a milano una sede nord est a vicenza una sede a roma per il centro italia e una sede in apertura il 24 di maggio al sud a napoli e poi apriremo a catania in sicilia gli appuntamenti per venire a vedere come siamo come come è osa nel nel maggio durante maggio sono e iuri vorrei che tu mettessi questo discorso qua di tutti quanti i link allora l'otto maggio siamo a milano e l'otto maggio avremmo uno straordinario federico pacilli e fabio martinelli e tratteremo il tema delle cripto valute della block chain e soprattutto delle eco ma lo tratteremo da imprenditori lo tratteremo da imprenditori cioè significa che non mi interessa che la gente investa in cripto valute o altro mi interessa che la gente capisca cosa sta succedendo nel mondo e capisca che il mondo sta cambiando e vada verso quel discorso lì quindi il discorso dell'otto di maggio su milano potete venire il dieci di maggio su roma e il dieci di maggio su roma troveremo bolognini e capraro che ci parleranno di book finanziario e bank controller potete venire il quindici di maggio a varese 15 di maggio a valese serata tour dove praticamente andremo a presentare cosa abbiamo fatto in due anni di osa molto importante poi avremmo il 24 di maggio a napoli prima la prima di napoli il 24 di maggio e poi avremmo il 28 maggio a vicenza parleremo di reputation e centrale rischi quindi abbiamo sotto e a fine e a fine mese per quelli che sono già in osa andremo a dublino a visitare google e tutte qua airbnb insomma e tutte quante le grandi aziende digitali e questo sarà veramente un weekend interessante quindi 1 2 3 4 5 6 appuntamenti di maggio in cui potrete approfondire osa osa vi ricordo iuri non non vedo che mi stai mandando il discorso degli e dei vari link ma poi lo metto sotto io eventualmente sui commenti i link di tutte queste date che io ho dato alessandro se recuperi da iuri per cortesia link e prima della chiusura fra qualche minuto della diretta diamo tutti i link per nord ovest 8 maggio milano 8 maggio roma 10 maggio varese 15 maggio 24 maggio napoli e 28 maggio vicenza quindi queste sono le date di maggio dicevo la osa è la comunità più importante che oggi esiste in italia per imprenditori noi vogliamo condividere le esperienze vogliamo condividere quello che abbiamo imparato e tra di noi sta creandosi una forza una energia una determinazione veramente che non ha pari le serate sono strutturate con un intervento importante il intervento maggiore che riguarda sempre l'innovation quindi prima sessione sull'innovation seconda sessione sul gestionale ok quindi quello che riguarda la gestione d'impresa ad esempio adesso abbiamo parlato molto del GDPR ok e quindi abbiamo parlato molto di quello che succederà in maggio sulla comunicazione la terza sessione è l'angolo del leadership e del management che è un angolo dedicato a Alessio e che spiega esattamente e la quarto è il networking a cena light dinner ogni serata è composta da queste cose qua si cresce insieme si lavora insieme si scopre insieme in un mondo dove ci sono un sacco di strelloni che ti pretendono di cambiarti la vita pretendono di fare qualsiasi cosa noi lavoriamo pezzettino per pezzettino noi ci miglioriamo giorno dopo giorno noi impariamo settimana dopo settimana noi facciamo dei piani che per le nostre aziende siano interessanti io non ci sto nel stravolgere le persone o gli imprenditori ci sto nel condividere esperienze nel condividere cose se mi volete bene e vi apprezzate il lavoro lo scrivete per cortesia adesso prima che ci lasciamo di modo che consiglio fortemente osa formazione vera ad alto livello grazie Totò e quindi è una formazione efficace è una formazione a 360 gradi è una formazione che rende l'imprenditore veramente consapevole di tutte le aree anche quelle che magari non gli sono molto convenienti o non sono in sintonia con quello per cui ha studiato ma un imprenditore oggi non può non essere preparato a 360 gradi ricordatevi che le cose maggiori e con questo vado verso la conclusione le cose maggiori nella vostra vita sono il vostro cerchio degli affetti la vostra vita professionale i vostri amici le vostre passioni sono queste quattro aree qua che governano la vostra esistenza e noi come imprenditori non dobbiamo farci influenzare da nessuno non dobbiamo farci influenzare assolutamente da niente da nessuno non dobbiamo rincorrere i fatturati non dobbiamo rincorrere i margini non dobbiamo rincorrere gli standard degli altri dobbiamo rincorrere il nostro dobbiamo diventare noi delle persone complete e dobbiamo diventare noi delle persone che danno valore aggiunto la vita dei nostri collaboratori e noi cavalieri osa siamo disponibili per chi vuole confermare quello che dice mirko grande marco grande marco grande marco pogianella ecco se fra poco andremo anche col sito online con il blog con tutto sta nascendo in italia questa nuova veramente questa nuova osa puglia nicola mecca e osa puglia non è ancora in programma purtroppo non possiamo essere presenti in tutta italia abbiamo richieste da ogni parte ogni provincia e le province sono tante in italia è difficilissimo andare dietro insomma però si vede che il format è giusto si vede che quello che stiamo facendo è apprezzato io vi ringrazio domani mi potrete seguire sul funnel marketing live a rimini sul mio intervento che sarà circa le 11 e 30 vi aspetto però in osa vi aspetto in osa l'8 di maggio a milano il 10 di maggio a roma il 15 di maggio a varese il 24 maggio a napoli il 28 maggio a vicenza grazie a tutti un abbraccio una buona domenica e un augurio a tutte le persone del vostro cerchio affettivo che è la cosa più importante che avete nella vita ciao